Run like hell Non perdetevi questa nuova puntata di 2-4 ruote e passoni motori in onda mercoledì 21 febbraio alle 21 come sempre su ONTV Web Nostri ospiti, un papà ed una figlia si tratta di Andrea Sala e di sua figlia Vittoria Andrea, ormai conosciuto e estimato pilota canavesano e sua figlia Vittoria che ha da poco iniziato e intrapreso la carriera come navigatrice 20 minuti buoni lì, prima con i caschi, poi togli i caschi, no, non si parte, tutto poi si parte, si parte, rimetti i caschi in 4-4-8 abbiamo dovuto rimettersi il casco, rilegarsi, tirar fuori le note ed eravamo in prova e quindi è stata veramente brava a gestire quella situazione e essere pronta a partire Non perdetevi questa puntata in onda mercoledì 21 febbraio alle 21 su ONTV Web Sì, 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 sì,